Questi atleti dico che prima di tutto devono essere orgogliosi di se stessi perché stanno facendo una cosa che non è da tutti. Seconda cosa, io ho fatto come dicevo l'atletica leggera, ho fatto alpinismo, adesso che non ho più il fisico faccio barca a vela, ma è sempre una prova di se stessi, non è solo competizione verso altri, ma è soprattutto competizione verso se stessi. Poi gli sport singoli lo sono ancora di più, uno veramente continua a sfidare se stesso ed è una cosa importantissima. Quello che ho imparato io nello sport poi nella vita è la legge di tutti i giorni, quindi insomma lo sport è un ottimo sistema per educare i giovani, per far vedere che i giovani prendono la loro posizione nella società e soprattutto è un modo positivo di fare le cose. La maratona di New York è l'appuntamento principe che tutti gli appassionati del podismo attendono tutto l'anno, molti genovesi da anni partecipano a questo evento internazionale, il sindaco e l'amministrazione tutta ha voluto riconoscere a questi ragazzi e ragazze che parteciperanno quest'anno, riconoscendo loro una maglietta di buon auspicio che rappresenta la nostra città e il riconoscimento dell'amministrazione in questa impresa che comunque ha sempre del prestigioso, dell'affascinante perché poi è un contesto molto particolare. L'idea di rappresentare la mia città a Genova, oltre che l'Italia, a New York mi riempie d'orgoglio e mi fa sentire molto emozionata. Sicuramente ci arrivo in ottima forma, non voglio essere superstiziosa, ho lavorato duro, sto bene e non so in che cosa si tradurrà in termini cronometrici o di piazzamento però sono sicura che l'affronterò al meglio delle mie possibilità.